buonasera benvenuti a tutti i colleghi e alle colleghe stasera abbiamo deciso insieme al vicepresidente davide baventore di organizzare questo incontro per cercare di affrontare un po i tanti dubbi le tante preoccupazioni che il decreto 44 ha illicitato diciamo nella comunità e di cui noi abbiamo avuto traccia tramite numerose richieste di chiarimenti di informazioni o anche richieste di grande preoccupazione che sono giunte alle nostre segreterie e all'interno di questa serata abbiamo pensato che la cosa ideale era proprio chiedere all'avvocato maura carta che l'avvocato consulente dell'ordine che da tanti anni segue l'ordine in tutte le sue vicissitudini di poterci dare una mano proprio per aiutare a chiarire anche alcuni snodi legali cercando di fare chiarezza di dare una mano a fare chiarezza preannunciandovi però che in questo tentativo di chiarezza rimarranno dei punti un po come dire non perfettibili diciamo piuttosto che perfetti proprio perché il decreto che forse molti di voi hanno avuto modo di leggere da delle informazioni chiarisce alcuni aspetti lascia aperte altre questioni che stasera tenteremo di affrontare noi abbiamo aperto questa serata vi ringraziamo per essere così numerosi e abbiamo chiesto di porci delle domande e molti di voi hanno come dire fatto come diranno applicato tramite il modulo abbiamo ricevuto circa 280 domande che abbiamo letto tutti e tre insieme appassionatamente abbiamo cercato di raggrupparle in tre filoni principali e questo sarà un po anche diciamo la scaletta con cui organizzeremo la discussione stasera abbiamo deciso di raggruppare le vostre questioni in tre macro argomenti un primo argomento riguarda le molte domande che voi avete posto a partire proprio dalle condizioni medico sanitarie che ognuno di voi in questo periodo sperimenta o ha sperimentato il secondo gruppo di domande aveva più a che fare diciamo con delle questioni o anche a volte delle contestazioni diciamo sul piano legale del decreto e qui chiederemo proprio a maura carta di darci una mano nel cercare di rispondere alle questioni e un terzo gruppo di questioni riguardava riguarda diciamo alcune domande diciamo più operative su come opl si muoverà rispetto alle varie vari passaggi e vari step che il decreto prevede quindi io a questo punto inizierei proprio dal primo macro tema che è quello che riguarda le molte domande che voi avete posto sul tema delle vostre condizioni mediche sui dubbi che avete rispetto ad alcune condizioni mediche lasciando a davide di cercare di rispondere però precisando anche un aspetto che noi come dire non possiamo darvi delle risposte concrete a tanti dubbi che voi avete portato rispetto alle vostre condizioni cliniche specifiche però con davide abbiamo pensato un po come provare ad organizzare le risposte ed aiutarvi a far chiarezza lascio quindi la parola davide baventone il nostro vicepresidente grazie laura grazie presidente come come giustamente dicevi è una serata che cerca di dare alcune informazioni questo decreto evidentemente è una dire una nuova una previsione di legge ecco che affronta una situazione inedita che credo nessun altro ordine prima di adesso si è trovato a dover affrontare quindi ci sono sicuramente molti dubbi agli ordini è demandato un ruolo più che altro di collaborazione con le altre amministrazioni e con le aziende sanitarie per l'organizzazione della campagna vaccinale quindi capite che noi non abbiamo come dire da questo punto di vista un ruolo non siamo non abbiamo un ruolo particolarmente attivo siamo dei collaboratori più che altro sul tema del passaggio di informazioni traenti e naturalmente non abbiamo competenze cliniche e da far valere nelle indicazioni che vi possiamo dare per cui questa sera cerchiamo di fare un po il punto su quali sono per esempio delle buone fonti informative per cercare di inquadrare la propria posizione personale quindi per dare almeno una parziale risposta su come muoversi e in quale tipo magari di casistica posso rientrare mi come prima cosa vi faccio vedere magari molti di voi già lo conoscono ma per chi non dovesse invece averle viste potrebbe essere utile sapere che sul sito sia dell'istituto superiore di sanità che sul sito dell'aifa ci sono e qui vi faccio vedere un'anteprima di una cosa di una delle prime domande che sono state fatte ci sono una serie di fac quindi di risposte a domande frequenti che vengono poste dalle persone sul tema della campagna vaccinale e che probabilmente possono già in parte risolvere i vostri dubbi che avete posto in maniera spesso molto articolata e anche con come dire dettagli che ripeto noi come ordine non siamo in grado e non è nostro compito naturalmente di valutare ma che gli organi invece per posti hanno già incontrato per cui hanno preparato risposte uno dei dubbi per esempio più più espressi è perché anzi è se si può scegliere il vaccino allora il vaccino come vedete viene detto chiaramente che pur essendo un diritto è un diritto per tutti ed è un diritto riceverlo gratuitamente non è liberamente selezionabile da parte di chi lo riceve questa è una valutazione che attiene alle alle aziende sanitarie in funzione di una serie di parametri dei quali noi probabilmente non siamo nemmeno del tutto a conoscenza e che hanno a che fare immagino con la disponibilità delle dosi con particolari valutazioni di ordine clinico quindi no non è possibile richiedere il un vaccino specifico e bisogna quindi farsi somministrare ecco il vaccino che l'azienda sanitaria ci ci destina questo è un discorso che eventualmente può subire delle variazioni nel caso di particolari condizioni cliniche che non siamo noi a conoscere ma che potreste valutare o con il vostro medico di medicina generale o quelli medici che sono presenti nei punti nei centri vaccinali e che sono incaricati di fare con voi una raccolta anamnestica e considerarla criticamente per individuare eventuali incompatibilità o eventuali situazioni che facciano ritenere sia meglio la somministrazione di un vaccino rispetto a un altro e spero appunto con questo di aver risposto a un dubbio frequente c'è un'altra un'altra domanda abbastanza frequente che è quella rispetto al tema della della vaccinazione in gravidanza e allattamento quella della gravidanza dell'allattamento a un a un sito del come vedete epicentro punto iss istituto superiori di sanità punto it li trovate le risposte proprio sul tema gravidanza allattamento sono risposte articolate in generale io ho letto che c'è un c'è un'assenza di dati fondamentalmente sulla sugli effetti della vaccinazione per cui vengono previste una serie di casistiche per esempio il fatto che se una persona viene vaccinata e poi rimane incinta successivamente può differire la seconda somministrazione del vaccino però vi ripeto queste sono cose può dire che non valgono come indicazione assoluta sono è un riportato di quanto è contenuto nel sito ma è sempre deve essere sempre oggetto di valutazione clinica con i medici che vi seguono e quindi è sempre una cosa con la quale sulla quale confrontarsi con il ginecologo nel caso della gravidanza e naturalmente il medico di medicina generale nello specifico scusa davide mi permetto di inserirmi perché molte delle domande appunto entravano nel merito di come posso fare se era sicuro fare il vaccino o meno come diceva giustamente davide noi non possiamo come dire entrare nel merito delle vostre specifiche situazioni ma in tal senso vi rimandiamo a una lettura attenta di questi siti che davide di cui davide vi sta dando visione ma soprattutto vi rimandiamo ai vostri medici nel senso che in questa situazione specifica tutte le varie i quali quadri che ci avete illustrato sono da illustrare ai vostri medici in modo che siano loro a darvi delle indicazioni puntuali con la competenza necessaria per dirvi se è il caso che vi vaccinate oppure se siete in quelle condizioni che possono essere passibili di differimento del vaccino noi in questo non vi possiamo dare delle indicazioni ma vi possiamo dare l'informazione più esplicita che è quella di riferirsi o riferirvi ai vostri medici di base eventualmente al ginecologo nel caso delle colleghe incinta o altri specialisti nel caso di patologie che ci avete ampiamente descritto sì esatto e adesso stavo proprio facendo vedere che sempre sul sito dell'agenzia italiana del farmaco dell'aifa è presente una serie di domande frequenti che hanno a che fare proprio con le condizioni cliniche specifiche e la possibilità o l'opportunità di vaccinarsi quindi in prima istanza se volete controllarle troverete una serie di disturbi una serie di condizioni cliniche e la relativa valutazione sull'opportunità di effettuare il vaccino sono tante e sono articolate per cui davvero necessaria una lettura individuale da questo punto di vista che poi diventa lo spunto per un approfondimento con il proprio medico e all'interno di queste voci trovate le possibili condizioni di riferimento del vaccino quindi tutte quelle condizioni cliniche che potrebbero permettervi di documentare di fronte alla all'azienda sanitaria la richiesta di non di non eseguire la vaccinazione immediatamente ma di aspettare un certo tempo oppure quelle condizioni cliniche che potrebbero esonerarvi dalla somministrazione del vaccino vi ripeto ritorniamo dopo quando spieghiamo più nel merito il tema dell'obbligo e gli step che arriveranno che sono stati insomma descritti nel decreto direi che a questo punto potremmo come dire passare a un'introduzione che lascerei fare all'avvocato maura carta del decreto per poi andare ad articolarne diciamo la ricaduta in termini di obblighi dei colleghi e degli obblighi anche l'opl deve mettere in campo per soddisfare il decreto stesso quindi lascerei la parola a maura per poterci illustrare diciamo in linea generale il decreto 44 grazie mille buonasera a tutti grazie presidente sei stata molto coraggiosa te l'ho detto di persona e lo dico anche di fronte ai 547 iscritti che partecipano perché molti ordini professionali ancorché sollecitati dai propri iscritti hanno preferito mantenere un atteggiamento come dire di attesa perché questa questo decreto legge ha naturalmente creato diverse domande anzi proprio un sommovimento trasversale diretto perché contiene una serie di prescrizioni che sono nuove nel nostro ordinamento allora si tratta di un decreto legge quindi un atto che ha forza di legge che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal parlamento la questa questo decreto legge contiene un articolo l'articolo 4 che riporta delle disposizioni urgenti per la prevenzione del contagio del covi dal rispetto al covi con una previsione importante nuova nel nostro ordinamento di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie la norma fa riferimento agli esercenti le professioni sanitarie sia nell'ambito di strutture sanitarie socio sanitarie socio assistenziali pubbliche ma anche private perché ne parliamo così tanto perché gli psicologi dal da tanto tempo per noi io lo sostengo da vent'anni che siete una professione sanitaria ma il riconoscimento formale è arrivato nel 2017 con la legge lorenzin anzi nel 2018 con la legge 3 lorenzin quindi voi siete una professione sanitaria e ricadete pienamente e integralmente in questa previsione di legge il legislatore ha stabilito un obbligo abbastanza chiaro temporalmente limitato perché la previsione riferita al va dal primo aprile alla 31 dicembre e speriamo che per quella data l'emergenza sanitaria sia un ricordo non sbiadito ma certamente non abbia i connotati e non venga declinata così come oggi tutti noi la viviamo e quindi questa legge oggi impone degli adempimenti molte domande sono state fatte rispetto al potere dovere dell'ordine secondo alcuni e alle criticità connesse a questa legge alla violazione della privacy alla violazione alla compatibilità di una previsione così assoluta rispetto a norme interne la costituzione e anche a norme di vario rango che perché solo per ricordare che appena il 27 gennaio del 2021 l'assemblea parlamentare del consiglio d'europa ha messo in guardia da forme di discriminazione nei confronti di coloro che decidono di non vaccinarsi nel pieno esercizio della loro libertà di autodeterminazione quindi ci sono delle norme della cedula articolo 5 della convenzione di oviedo tutta una serie di situazioni che certamente daranno lavoro a molti avvocati ma che non sono in questa sede spendibili perché l'ordine che cosa fa rispetto a una legge dello stato l'ordine ha ricevuto la prescrizione di fornire gli elenchi degli iscritti elenchi degli iscritti alla regione con l'indicazione della residenza degli stessi spetta alla regione poi fare una serie di accertamenti e o di sollecitare l'effettivo espletamento l'effettiva l'effettiva vaccinazione quindi la somministrazione del vaccino quindi l'ordine poi riceverà o dovrebbe ricevere quindi la scansione qual è l'ordine entro ieri doveva trasmettere alla regione l'elenco degli iscritti con l'indicazione del luogo della residenza entro questo termine i datori di lavoro quindi per chi svolge un lavoro dipendente sa dovrebbe sapere che entro ieri datori di lavoro delle strutture sanitarie anche in quelle private devono dovranno trasmettere l'elenco dei dipendenti sempre alla regione cosa fa la regione entro dieci giorni dovrebbero verificare lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti nell'elenco quindi invitare ricevuta la segnalazione dovrebbero sollecitare con una nel giro di una due settimane semplifico e devono verificare l'effettivo l'effettiva vaccinazione e in caso cui l'operatore sanitario o l'esercente della professione sanitaria non sia stata vaccinata dovrebbero provvedere a dare questa corsia preferenziale perché ci sono ancora moltissimi psicologi anche medici che non sono stati ancora vaccinati quindi decorsi questi termini che sono 15 giorni poi l'azienda sanitaria quindi non l'ordine deve accertare l'inosservanza dell'ordine dell'obbligo vaccinale e ne deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro e all'ordine professionale la norma non prevede che cosa faccia che cosa debba fare l'ordine professionale ricevute queste comunicazioni e quindi qui ci fermiamo perché verosimilmente in sede di conversione ci potranno anche essere delle novità ma noi al momento ci fermiamo su un dato a che cosa deve fare l'ordine l'ordine ha già di impiuto ai propri obblighi oggi potrebbe fare da filtro solo per raccogliere la segnalazione delle maggiori criticità o delle maggiori problematiche connesse a queste a questo obbligo straordinario eccezionale e rappresentarle credo al nazionale che si farà portatore di esigenze portatore di proposte al parlamento prima della conversione in legge di questa norma certo i problemi sono notevoli perché dalle domande che sono arrivate questo pomeriggio risulta una forte criticità una forte una contestazione articolata soprattutto sulla violazione di norme costituzionali e soprattutto sulla violazione delle norme della privacy allora una precisazione devo fare un po il leguleio e me ne scuso ma le questioni di l'eccezione di incostituzionalità nel nostro ordinamento possono essere sollevate soltanto in due modi o dalle regioni direttamente quindi con conflitti di attribuzione oppure nel corso di un giudizio cioè il giudice che valuta se la questione della violazione di norme costituzionali con un obbligo vaccinale così ampio è il giudice che deve valutare se trasmettere la questione alla corte costituzionale l'ordine non può fare assolutamente nulla può fare come dire da filtro può raccogliere può confrontarsi e questo lo sta facendo anche adesso e lo ha sempre fatto l'ordine degli psicologi della Lombardia però non può costituire un veicolo di transito come dire non può rappresentare esponenzialmente queste queste criticità per quanto invece concerne la violazione delle norme della privacy lo stesso decreto stabilisce espressamente richiama il rispetto delle norme sulla privacy perché in più punti l'intero decreto legge 44 ma certamente l'articolo 4 quello che impone l'obbligo vaccinale richiama e prescrive l'osservanza dell'obbligo delle norme sulla privacy cioè non c'è una circolarità di queste disposizioni che stabiliscono dei limiti che stabiliscono l'obbligo vaccinale quindi le limitazioni dell'attività in conseguenza di questa violazione quindi in questo momento io mi fermerei qui poi magari vediamo se riusciamo nel tempo limitato e nella limitatezza anche degli argomenti così come ha rappresentato molto bene la vostra presidente possiamo solo dare un'indicazione possiamo come dire esprimere anche dei sentimenti ma delle risposte certe con una decreto legge che è stato approvato e manà pubblicato in gazzette ed è diventato imperativo e vincolante per tutti una settimana fa non possiamo come dire con molta onestà intellettuale dare delle risposte di cui non disponiamo saremo poco seri se lo facessimo grazie laura grazie maura io cerco a questo punto di tradurre diciamo in modo un po più attivo quello che abbiamo fatto e quello che ci aspettiamo che potrebbe succedere cercando anche di ricomprendere poi anche con l'aiuto di davide magari alcune dei vostri quesiti che stanno anche arrivando proprio anche in questo momento in ciao come ha già ben detto l'avvocato come ordine abbiamo avuto l'indicazione di inviare le liste le liste sono state inviate a regione vi ricordo che i nostri elenchi sono elenchi pubblici quindi non c'è anche un tema di riservatezza noi abbiamo mandato solo il nome il cognome e i dati che sono pubblicamente presenti nel nostro albo dopodiché sarà in capo appunto a regione e da decreto sarebbero previsti questi 15 giorni per l'accertamento di tutte queste liste che vengono inviate da tutte le categorie sanitarie quindi insomma parliamo di numeri molto consistenti sarà in capo alle singole alla regione l'accertamento come regione effettuerà questo accertamento non è dato sapere nel decreto che nazionale quello che è possibile immaginare che noi comunichiamo con la cabina di regia dell'organizzazione del piano vaccinale di lombardia e poi di solito lombardia demanda le singole ats che sono diciamo le case madri dell'organizzazione sanitaria lombarda che a loro volta si interfacciano con le sst quindi possiamo immaginare che le liste vengano smistate per competenza di ats vengono fatti dei controlli e così regione avrà contezza di chi è già stato vaccinato di chi non è stato vaccinato le persone che non sono state vaccinate e abbiamo visto le vostre domande che i motivi possono essere anche diversi perché non avete risposto perché non eravate presenti in italia perché insomma per le mille situazioni l'aspettativa è che da questo decreto regione dovrebbe farsi carico di richiamarvi tutti tutti quelli che sono stati inclusi e quindi di darvi questa seconda opportunità che per noi rappresenta una terza perché noi abbiamo ricordate aperto già due finestre per l'adesione alla campagna vaccinale quindi questa è una terza che da un certo punto di vista sottolineo anche che è una buona notizia soprattutto per i più giovani quindi per questi nuovi iscritti che erano rimasti fuori dall'ultima finestra e che in questo nuovo invio di elenco sono tutti come dire ricompresi evidentemente noi non possiamo inviare nelle liste i nominativi di persone che non risultano ancora iscritte all'ordine questo lo chiarisco perché è una domanda che ci viene posta moltissime volte non possiamo quindi inviare nei nominativi di chi è come dire in attesa del perfezionamento dell'iscrizione nei nominativi di chi sta facendo il tirocinio perché effettivamente nessun titolo è ancora iscritto all'ordine quindi noi non abbiamo la possibilità di inviare noi altri se non che dei nostri iscritti effettivi quello che poi succederà una volta come dire effettuate controlli da parte di regione è che le singole persone che verranno chiamate avranno la facoltà di rispondere positivamente oppure per comprovate come dire situazioni mediche che dovranno essere accertate con i medici competenti come abbiamo detto precedentemente si potrà avere il differimento della chiamata della vaccinazione o ancora evidentemente siete anche nella posizione diciamo di poter anche dire che non volete farvi vaccinare anche se l'obbligo è previsto che cosa succede nel caso in cui non siete non sarete vaccinati questa è una risposta a cui io tento di dare una domanda con un certo grado di libertà in senso statistico di certezza vale a dire quello che noi sappiamo è che può essere accettato un differimento per cause mediche comprovate negli altri casi possono essere incluse due fatti specie ma ora qui se sbaglio correggimi senza problemi il primo caso è quello in cui un iscritto dichiare di non svolgere attività professionale e quindi in questo caso può essere esonerato dall'obbligo oppure c'è la fatti specie che tutta molto come dire ricompresa nella nostra professione e che ricomprende moltissime delle vostre domande che ha a che fare con chi esercita solo online chi vede pazienti solo online vale a dire chi non vede in presenza i pazienti evidentemente la finalità di questo articolo è quella di limitare il contatto e ridurre le possibilità di contagio quindi a buon titolo si potrebbe sostenere che se io non vedo in presenza paziente posso come dire decidere di non vaccinarmi anche se a pieno titolo avrei l'obbligo di vaccinarmi in quanto operatore sanitario detto questo nella misura in cui vi assumete questo rischio professionale sapete che teoricamente in presenza non potreste vedere nessuno né nello studio privato né in un altro setting lavorativo qualunque sia che facciate gli psicologi del lavoro sia che facciate gli psicologi scolastici qualunque sia il vostro tipo di professionalità all'interno della grande famiglia della psicologia quindi nei fatti quello che il decreto attualmente prevede è non una sanzione effettiva ma una sospensione dell'attività in presenza fino alla scadenza del 31 12 come diceva l'avvocato è pensabile è possibile che ad eccertamenti fatti da regione a perfezionamento del decreto in parlamento verranno date ulteriori indicazioni di merito su come muoversi ma quello che per adesso sappiamo è quello che vi sto dicendo cioè l'ordine manda le liste gli accertamenti sono in capo regione restituiranno a noi e liste come dire con gli accertamenti effettuati mi permetto di fare una nota personale ecco voglio vedere se davvero tutto avverrà in 15 giorni ho qualche dubbio però può essere che io come dire si è in malafede quando arriveranno questi elenchi con le indicazioni ulteriori noi ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti in modo che possiate capire e muovervi in questa situazione spendo una parola in più e poi lascio la parola davide che magari può aiutare anche a risolvere le molte domande che stanno arrivando che riguarda l'annosa questione delle persone che sono fuori regione cioè nel senso collega che è scritto opl ma vive in un'altra regione o altre fatti spesi allora che come come ha funzionato e come funzionerà quello che è successo nelle prime due finestre di adesione alla campagna vaccinale per quanto riguarda i residenti in lombardia non iscritti opl noi abbiamo ricevuto delle indicazioni diverse nel corso del tempo abbiamo cercato di adattarci flessibilmente in un primo momento pareva che non potessimo mandare in vaccinazione nessun'altra personal di fuori degli iscritti opl in un secondo momento abbiamo trovato un accordo abbiamo fatto un accordo con gli altri presidenti delle altre regioni con cui ci siamo praticamente confrontati sull'invio delle liste e quindi il veneto ha mandato a lombardia le proprie liste lombardia ha mandato il veneto le proprie liste in questa nuova fase essendo alla gestione in capo a regione lombardia io non vi posso dire esattamente come procederemo vorrei capire come procederà regione lombardia dopodiché prendo una decisione quindi so che magari in alcuni casi è già stato comunicato che verranno mandate le liste da dall'ordine a tutte le varie regioni però non so se questa rappresenta l'unica o la migliore procedura quello che vorremmo fare noi è attendere un riscontro che dovrebbe avvenire in tempi in tempi brevi da parte di regione per poi orientarci su come muoverci con gli iscritti opl residenti in altre regioni o i residenti in altre città che vogliono come dire venire i residenti scusate in lombardia che sono iscritti in altri ordini regionali quindi di questo vi daremo aggiornamento appena regione lombardia ci darà delle indicazioni su come muoverci ho visto che in alcune chat alcuni colleghi dicevano in altre regioni danno indicazioni più precise io questo non lo so non so dirvi se è vero che in alcune regioni dare indicazioni precise sul tipo di vaccino e se si può scegliere il vaccino dubito perché haifa è un sito nazionale quindi se da come indicazione l'impossibilità di sceglierlo immagino che valga in tutte le regioni detto questo quello che posso fare io e darvi possiamo fare noi qui stasera e darvi le indicazioni di come funziona in regione lombardia che evidentemente ha riscontrato alcune difficoltà anche in tutta questa operazione pandemica quindi e può anche avere delle differenze rispetto ad altri come dire processi in altre regioni davide forse puoi darmi una mano sto dimenticando forse alcuni passaggi non dimenticando perché poi appunto le domande sono così tante in parte anche diverse che bisogna cercare di recuperarle allora quello che tu dicevi mi fa pensare da una parte che la stessa considerazione che stiamo facendo per i nuovi iscritti all'albo e quindi le persone che sono state inserite recentemente tra gli iscritti noi se ricordo bene abbiamo inviato i dati il primo di aprile chi era iscritto entro quella data è rientrato nell'invio dei dati chi verrà inserito dopo evidentemente non può esserlo e la stessa cosa è valida anche per chi ha chiesto di trasferimento perché vale lo stesso principio no prima di essere diciamo trascritti all'interno del nostro elenco di colleghi regionali ecco se avete già ricevuto la conferma siete stati ufficialmente inseriti allora prima del primo aprile sarete quindi rientrati nell'invio di dati fatto dall'ordine verso regione in caso contrario no e naturalmente rientrerete tra quei casi che la presidente diceva andranno definiti in seconda battuta quando anche noi avremo maggiore chiarezza rispetto a come regione intende muoversi su questi casi di non sovrapposizione tra l'appartenenza a un'ordine regionale e la residenza sullo stesso territorio regionale ecco risco per puntualizzare che questa scelta va un po nella direzione di quella che è la funzione dell'ordine in tutta questa macchina di operazione di adesione alla campagna vaccinale cioè noi non abbiamo non dovremmo avere la funzione di prendere delle decisioni ma di essere come dire degli interlocutori di qualità rispetto a regione lombardia per un invio certificato di alcune liste che hanno come dire che è stato stabilito che hanno prima avevano una priorità adesso hanno un obbligatorietà ma a nessun titolo l'ordine nella posizione di decidere in autonomia come fare perché farlo dove farlo cioè come dire interpreta i propri ruoli istituzionali come preferisce ma per noi è molto importante rimanere all'interno di questo confine istituzionale e trovare sempre un'interlocuzione che vi garantisca poi al massimo delle nostre potenzialità tutti quanti come categoria certo io coglievo un po l'occasione di quello che tu dicevi cioè volevo sottolineare che in questo periodo prima dell'uscita del decreto 44 erano stati in diversi colleghi a chiederci cosa potevano fare nel caso non fossero stati ancora convocati dalle a sst pur avendo aderito la campagna diciamo le finestre in cui si poteva dichiarare la propria adesione alla campagna vaccinale e rispetto a questo l'ordine non aveva dei riferimenti purtroppo da da fornire per il semplice fatto che come vi dicevamo prima noi abbiamo fatto da collaboratori in un certo senso della sanità regionale fornendo i nomi nativi e i riferimenti delle persone che avevano intenzione di vaccinarsi ma poi la gestione si in qualche modo complessifica estremamente perché i dati vengono passati alle ats per competenza territoriale e poi successivamente smistati sulle asst ognuna delle quali gestisce la vaccinazione anche dal punto di vista dell'organizzazione del calendario delle somministrazioni in maniera totalmente differente quindi non esiste purtroppo un sistema centralizzato al quale fare riferimento almeno che noi che noi sappiamo ecco al quale fare riferimento per esempio per recuperare un appuntamento per la vaccinazione che dove non si è potuti andare pur magari avendo cercato di avvertire ecco allora questa chiamiamo la terza finestra che si apre grazie al decreto 44 perché tutti verranno tutti verranno convocati a tutti quelli diciamo che non che non possono dimostrare di aver già prenotato un appuntamento per la vaccinazione di aver già fatto la vaccinazione ecco a tutti verrà data la possibilità di vaccinarsi quindi questa è una possibilità senza passare diciamo attraverso l'interlocuzione con le singole asst che posso capire in alcuni momenti probabilmente per il carico di lavoro anche di questa situazione specifica ecco sono contatti estremamente faticosi ed estremamente incerti quindi questo è di nuovo per dire che il lavoro io ringrazio molto una cosa che forse non ho esplicitato abbastanza in tutti questi mesi la nostra segreteria per l'enorme lavoro che ha sostenuto che voi siete ventimila con situazioni molto diverse e ovviamente in questo periodo come 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 atteso ecco avete però veramente investito l'ordine nel suo indirizzo dedicato eh di questioni e domande e la segreteria ha fatto un lavoro straordinario e in questo lavoro eh su nostra richiesta ha continuato a tenere costantemente direi quasi ogni quindici giorni i rapporti con tutte le 27 sst per cercare di avere contezza sul piano di chiamate quello che vi posso dire da tante domande che avete fatto è che sappiamo che ci sono delle ats che sono andate più a rilento rispetto delle altre per esempio nello specifico sappiamo che la ts brianza e la ts pavia sono state più lente nell'operazione di chiamate nell'organizzazione della campagna vaccinale ehm voi potete scriverci e noi cerchiamo di rispondere a tutte le vostre domande però io volevo sottolineare che non è minimamente in capo a noi la decisione di quando e come chiamarvi né di come dire sollecitare la chiamata di qualcuno di voi quello che noi possiamo fare che abbiamo sempre fatto e continueremo sempre a fare è quello di interfacciarci con i direttori delle ats e delle sst per cercare di dire allora come procediamo come va con la lista che vi abbiamo mandato ma la lista nel suo insieme ok qualcuno chiedeva quanti psicologi sono stati vaccinati prima dell'uscita del decreto anche su questo io non ho un numero come dire preciso perché i numeri ce l'hanno le ats le sst questo è il dato sensibile che infatti meno possiamo trasferire noi non abbiamo questo dato è un dato che in capo solo a regione lombardia quello che vi posso dire è che hanno aderito alla campagna vaccinale nelle due finestre davide però se sbaglio qui aiutami circa undicimila persone più ci sono tutti i dipendenti pubblici che entravano in una partita di vaccinazione a parte quindi noi stimiamo 13 mila persone davide potrebbe essere potrebbe essere contando che oltre i dipendenti pubblici ci sono anche i collaboratori è perché poi i dipendenti non solo gli strutturati ma naturalmente anche chi lavora comunque il regime di libera professione ma in collaborazione con un ente pubblico con un ente della sanità regionale e poi i colleghi che lavorano nelle strutture del privato accreditato quindi effettivamente è abbastanza difficile fare una stima una volta stabilito ecco che circa la metà o poco più della metà dei nostri iscritti aveva aderito attraverso le finestre aperte dall'opl poi c'è invece una parte più variabile che facciamo fatica a stimare ecco anche proprio perché non ci vengono riferiti dati sulla vaccinazione della categoria ecco noi non abbiamo non siamo in possesso di questo tipo di dati e avremo forse finita questa fase di accertamento e potremo forse darvi qualche indicazione più puntuale ripetere una cosa che mi sembra che che le collego i colleghi chiedano davide poi se volevi puntualizzare che riguarda che cosa capita quindi c'è una sanzione allora allo stato attuale il decreto non prevede una sanzione né amministrativa né disciplinare cosa che poteva essere immaginato forse come diceva l'avvocato questo potrebbe rappresentare come dire un aspetto un po un uno se questa questo decreto no che probabilmente potenzialmente potrà essere meglio definito più avanti allo stato attuale la sanzione si concretizza in un impedimento dell'esercizio dell'attività in presenza questo è quello che avviene non c'è né una sanzione scritta né un'annotazione non una sanzione disciplinare né amministrativa vorrei che questo vi fosse chiaro quindi significa che la sanzione vi l'ammonimento è quello di non fare attività in presenza perciò le attività online qualcuno ha chiesto posso continuare a svolgerle sì la risposta è sì potete continuare a svolgere detto questo tengo a precisare forse un'altra cosa che non abbiamo precisato è che tutto questo processo avverrà alla fine degli accertamenti ora siamo in una fase in cui noi abbiamo inviato le liste gli accertamenti per quanto mi è dato sapere non sono neanche cominciati quindi quando arriverà la fine dell'accertamento sarete nella posizione di dover modificare eventualmente qualche aspetto della vostra vita professionale da qui fino a quando questo non avverrà a tutti gli effetti non sta cambiando niente nella vostra attività professionale non cambia niente detto questo e qui porto il mio auspicio che so essere condiviso da davide da tutto direttivo è ovviamente che io credo che sia come dire un riconoscimento per la nostra professione essere appunto rientrati nella categoria dei professionisti sanitari e credo che in quanto tali sarebbe come dire doveroso aderire alla campagna vaccinale e sentirsi come dire di poter essere parte diciamo di un progetto che ha la finalità di limitare la diffusione di un virus e la diffusione di questo contagio però se devo dirvi quello che vi capita tolte gli auspici diciamo e gli orientamenti che possiamo avere è che voi finché non saranno finiti tutta questa fase di controllo siete in un periodo in questa finestra di attesa in cui insomma non cambia niente rispetto a prima delle emanazioni del decreto stesso prego davide scusa se ti ho un po no no c'era una domanda molto ciò che mi ha incuriosito perché la collega mi sembra chiedeva il tirocino di psicoterapia rientra nell'esercizio della professione e quindi io direi di sì è un atto evidentemente del tutto professionale ma in questo caso dovete regolarvi con il vostro con il posto dove fate il tirocino evidentemente no perché nelle strutture pubbliche credo che questo tema della vaccinazione probabilmente sarà ancora più sentito che nelle strutture private detto questo si rientra nell'esercizio della professione e dall'altra parte qualcuno aveva chiesto invece per i tirocini post laurea quindi di persone diciamo futuri colleghi quindi persone non ancora abilitate in quel caso l'unico consiglio che secondo me possiamo dare che non siete soggetti all'obbligo ma se voleste vaccinarvi e se fate il tirocino per esempio in una struttura pubblica è possibile che la struttura nella quale lavorate possa inserirvi all'interno come dire di un elenco di persone da vaccinare proprio in virtù del fatto che lavorate in un posto pubblico e che ecco quindi questa è una possibilità da esplorare per per voi però non rientrate in questo caso nelle previsioni del decreto 44 è una questione diciamo diversa davide vedo che molti colleghi perché noi nel frattempo riceviamo le vostre domande in chat quindi se sembriamo distratti perché leggiamo in realtà quello che ci state chiedendo molti chiedono quindi se per motivi di salute comprovati certificati posso subire il differimento sono poi tenuto a dover lavorare solo in presenza scusate solo online e quindi non poter lavorare in presenza ecco io a questa risposta chiederei anche ma ora di darci un attimo una mano mi verrebbe rispondere sì però non so ma ora dici allora guardate la fattispecie regolata dalla sempre dall'articolo 4 al comma 2 solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate la vaccinazione obbligatoria non è obbligatoria e può essere omessa o differita ergo siccome le frasi e le parole hanno un senso chi per ragioni mediche documentate non può essere sottoposto all'obbligo di vaccinazione può continuare a svolgere l'attività normalmente una puntualizzazione rispetto a quello che ha detto così bene presidente poc'anzi la norma è vincolante per tutti dal primo di aprile naturalmente non racchiude una casistica sterminata ma contiene delle norme in generale e non dice che gli psicologi possono svolgere le prestazioni online questa è un'interpretazione che noi sosteniamo perché la razio sottesa questa legge e che bisogna evitare la diffusione del covide nei rapporti interpersonali quindi è l'operatore sanitario normalmente ce li ha queste e questi rapporti siccome gli psicologi sono credo l'unica professione sanitaria che può svolgere rito normalmente le proprie prestazioni online non vi è la ragione di fondo sotto e posta alla base di questa norma che possa giustificare quindi l'obbligo per chi svolge solo le prestazioni online cioè l'obbligo di vaccinazione è circoscritto dalla legge esclusivamente per coloro che svolgono mansioni che hanno contatti interpersonali o che in qualsiasi forma possono diffondere il virus quindi ci sentiamo di sostenere questa interpretazione che possiamo dire da avvocato costituzionalmente orientata che è anche ragionevole gli psicologi hanno una peculiarità e quindi sarà questo rappresentato in un dubbiamente dalla nazionale al parlamento per prevedere una norma di questo genere ma chi per ragioni mediche non può fare la vaccinazione non è tenuto a vaccinare come dire ad astenersi dalla svolgere prestazioni lavorative scusa laura sono una precisazione perché tra le varie domande che sono arrivate che sono tantissime io non riesco neanche in minima parte a rispondere poi decideremo come organizzarci per il proseguo la norma è obbligatoria dal primo di aprile non diventa valida ed efficace dopo la conversione in legge perché la caratteristica del decreto legge è che quelle sono norme già vigenti precettive vincolanti per tutte quindi non possiamo pensare di differire a giugno questo obbligo anche se poi quella serie di adempimenti ai quali la presidente e davide hanno fatto riferimento secondo come dire buon senso sappiamo che qui prima di metà maggio non sapremo assolutamente nulla perché le regioni non saranno in grado soprattutto la regione lombardia difficilmente sarà in grado di dare di comunicare in maniera tempestiva e puntuale chi si è vaccinato chi non è si è vaccinato per il resto insomma cercheremo di dare delle risposte sicuramente nei prossimi giorni alle risposte alle quali potremo dare un senso compiuto preciso e puntuale esatto io vedo che nella chat ci sono alcune domande che riguardano i residenti all'estero ecco io su questo tema anche nella prima fase della campagna vaccinale credo che sia regione lombardia che dovrà esprimersi così come ha fatto per i residenti fuori regione dopodiché che cosa regione lombardia stabilirà bisogna sempre prenderla un po con flessibilità nel senso che se io penso a com'è andata questa campagna vaccinale in un primo momento no nessuno dei fuori regione può essere vaccinato in un secondo momento sì ok anche i fuori regione figuriamoci l'estero quindi la mia la cosa che potremmo fare è quella di provare a informarci sui residenti all'estero ma diciamo la risposta la deve fornire una linea guida di regione lombardia che purtroppo come diceva davide non avendo una cabina di regia molto centralizzata fatica diciamo a dare delle linee guida un po trasversali buone per tutti però cercheremo di trovare una una risposta a questo quesito ecco tramite un'interlocuzione con regione sì forse come dire il caso migliore è quello nel quale la regione direttamente o comunque l'ats o la sst vi contattino proprio per chiedervi conto del vostro stato rispetto alla campagna vaccinale e a quel punto voi potrete avere l'opportunità magari di chiedere come potete regolarvi ecco noi evidentemente chiederemo a livello centrale qual è l'atteggiamento di regione su questi casi al momento non lo sappiamo se dovessero chiamarvi quella diventa un'opportunità comunque per capire come comportarsi c'erano delle devo dire l'avvocato carta ha già detto forse abbastanza ma rispetto alle modalità proprio concrete di come attestare il fatto di non di non svolgere lavoro in presenza è sufficiente un auto certificazione ci sono altri suggerimenti come dire per dare intanto diciamo che questa è una soluzione in via interpretativa che noi stiamo dando che è ragionevole che secondo me l'ordine può sostenere perché se la ragione sottesa questa norma è quella di impedire il contagio se io non ho la possibilità o l'opportunità come dire il rischio se non esiste il rischio che io contagio qualcuno io devo poter svolgere continuare a svolgere l'attività indipendentemente dall'obbligo vaccinale quindi se sono da casa e come lo posso certificare giustamente avete ricordato il sistema che una legge del 2 un dpr del 2000 da un valore importante a determinati stati condizioni situazioni il dpr 445 del 2000 dice che io posso auto certificare uno stato una condizione quindi io auto certifico ma mi sventolo con questa auto certificazione da qualcuno la devo spiegare potremmo mi permetto di introdurre una proposta alla presidente che ha già ricordato il carico di lavoro della segreteria potrebbe essere trasmessa all'ordine una auto certificazione all'ordine e la ts con un documento di identità perché questo dà valore all'auto certificazione altrimenti non vale nulla io a testo dichiaro che a partire dal fino al 31 dicembre io svolgerò esclusivamente la mia attività lavorativa online e quindi non e quindi non sono nella condizione di non svolto cioè non ho contatti interpersonali con pazienti diciamo che questa potrebbe essere una soluzione fino a quando non verrà convertito in legge questo decreto e in maniera tale da capire se ci saranno se saranno contenute nella nuova previsione formule come dire più elastiche o cautelative o se il ministero della sanità potrà sostenere questa questa interpretazione che è ragionevole però certo io lo devo certificare perché altrimenti non basta che io lo dica al telefono o lo rappresenti a qualcuno e la forma tipica è l'auto certificazione ai sensi della legge del 2000 quindi dichiarandolo e allegando un documento di identità e trasmettendolo a qualche ente questo secondo me non può che essere lo o l'ordine o l'ats o la sst o entrambi anzi direi forse meglio entrambi dove spedì non c'è la upl punto pure la e la pec ok abbiamo perso forse un piccolo passaggio alla fine per una questione di connessione degli ordini però ecco su questo daremo indicazioni più precise perché non possiamo dire quello che oggi non sappiamo stiamo proponendo delle soluzioni ragionevole di buon senso e cercare di aiutarvi a continuare a svolgere la vostra attività senza le ansie i patemi e i dubbi che naturalmente sono scatturiti da questa da questo pesce d'aprile una domanda e in cui chiedono se allora l'ordine comunicherà quando inizia la seconda fase diciamo dopo la fase di accertamento del della condizione vaccinale io nel decreto poi l'avvocato carta eventualmente mi corregge l'unica cosa che leggo è che l'ordine trasmetterà al proprio iscritto il la famosa sospensione diciamo così dall'attività in presenza in ragione del fatto che all'ordine stesso è stato comunicato dalla dalla regione o dall'azienda sanitaria l'accertamento del dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale quindi per esprimermi forse in maniera più chiara nel caso in cui la regione la tsc comunicano che l'iscritto x non si vuole vaccinare noi dobbiamo comunicare questo questa sospensione che ripetono nella sospensione dall'albo non è da confondere ma è introdotta dal decreto della sospensione dall'attività in presenza fondamentalmente non perché si parla di contatto interpersonale e quindi da qui la deduzione che si possa continuare a esercitare però rigorosamente appunto in modalità da remoto senza lavoro in presenza spero questo quindi non credo che noi parleremo poi vediamo se ci sono comunicazioni ufficiali da regione naturalmente ne renderemo conto le diffonderemo agli iscritti ecco ma non non so se ci sarà un momento in cui si dirà è finita la fase 1 comincia la fase 2 ecco più probabile che i singoli iscritti possano ricevere o meno questa notifica di sospensione diciamo che come diceva anche un pochino maura noi cercheremo di darvi tutti gli aggiornamenti che sono possibili come mi sembra che in questo abbiamo sempre generosamente fatto quindi non mancheremo nel mandarvi una newsletter nel caso in cui abbiamo degli aggiornamenti generalizzabili diciamo a tutti quanti anzi ne approfitto per dire ma se siete qui stasera sicuramente voi siete tra quelli che hanno tutto le informazioni sul sito aggiornate però di ricordarvi sempre di aggiornare le informazioni la vostra mail i vostri numeri di cellulare i vostri recapiti sul sito perché è proprio dal sito che noi ricaviamo le vostre informazioni quindi alcune richieste erano non avendo il numero di cellulare sul sito e allora non sono stato chiamato è così perché se non avete il numero di cellulare non ci comunicate i vostri numeri noi fatichiamo a metterci in contatto con voi quindi aggiornate le vostre pagine in modo che siano attuali nell'indirizzo di residenza di eventuale domicilio nel numero di cellulare cioè utilizzate questa finestra per darci una mano nell'aggiornamento in modo che poi tutte le informazioni avvengano più completamente più velocemente possibile vedo ancora scusami laura delle domande sul vaccino del che tipo di vaccino ci somministreranno non lo sappiamo l'abbiamo già detto all'inizio non c'è una prima chiamano però cioè nel senso che io non ho capito bene quel collega io sento un po allora io non ho capito quello che diceva la collega prima riferendosi alla regione lazio quello che succede in lombardia è che quando ti invitano al vaccino ti danno le informazioni sul tipo di vaccino che ti verrà somministrato ma noi non siamo in grado di dirvelo adesso perché non so quale ats vi chiamerà in quale periodo vi chiamerà cioè il tipo di vaccino dipende dal periodo e dalla sst in cui voi ricadete perché ogni sst ha delle sue come dire disposizioni vaccinali e delle disponibilità e quindi dipenderà da quella cosa quando chiamano questa informazione se ne avete io sento un grosso rumore di fondo non so se uno di voi io spento il microfono in via cautelativa anche io qui allora possiamo dire una delle ultime domande arrivate sono tante chi controllerà questo noi non lo sappiamo però il controllo è generalizzato quindi potrebbe controllare la guardia di finanza ricordo che se come ha ricordato davide adesso una volta come dire a regime diciamo alla fine di maggio la ts o la regione o la sst verificherà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale quella persona quel professionista sanitario non può svolgere l'attività perché eh l'adozione dell'atto di accertamento della inosservanza dell'obbligo vaccinale determina per sé solo ehm l'impossibilità cioè no l'impossibilità eh l'obbligo di astensione dello svolgere l'attività professionale e in questo caso però è un rea quindi c'è l'ordi diciamo la disposizione sarebbe della regione o dell'azienda sanitaria eh e quindi ehm chi eh senza aver ottemperato all'obbligo vaccinale svolge l'attività viola un ordine dell'autorità e un reato il 650 del codice penale quindi ehm non è che lo accertano giorno per giorno ma potrebbero accertarlo più avanti e questo può avere delle conseguenze perché espone a una responsabilità penale altri tipi di sanzioni non ce ne sono per i professionisti privati per i professionisti eh per gli psicologi dipendenti la sanzione tra virgolette che poi non è una vera e propria sanzione la misura è quella della sospensione di quell'attività e deve essere adibito ad altro ad altra mansione se questo non è possibile all'interno della struttura ehm viene sospeso senza retribuzione ma non è una sanzione quindi il regime sanzionatorio ad oggi non è definito e ehm però senz'altro potrebbero esserci delle conseguenze come in osservanza dell'obbligo dell'autorità altro tipo di misura sanzionatoria allo Stato non è individuo ma ora scusami vedo che una domanda molto frequente riguarda eh il consenso informato eh che la cittadino firma quando va eh diciamo a eh può ricevere il vaccino no? E ci sono una serie di domande sulla legittimità diciamo di questo consenso informato ho capito bene Davide c'era una cosa del tipo non è legittimo non è sì io ho letto diversi commenti anche al di fuori diciamo di quelli che arrivano questa sera rispetto al tema del consenso informato ora mi sembra che qualcuno qui dicesse una cosa di questo genere visto che c'è l'obbligo eh e che quindi non è più una una libera scelta eh mi faranno firmare lo stesso il consenso sembra materia legale ma ecco questo io non lo so perché in effetti sembra uno simoro se io sono obbligato cosa firmo tutto questo papirume è una delle obiezioni che erano state fatte che sono state fatte nel momento in cui il cittadino viene chiamato a vaccinarsi e negli altri paesi sono tre righe da noi ci sono eh l'ha detto Bertolaso Galli non mi ricordo ventisei pagine da compilare per quanto concerne il consenso informato se io mi sto sottoponendo ad una eh vaccinazione obbligatoria in realtà mh cadono molte di quelle eh considerazioni però ricordiamo che anche quando eh si eh adempie o si ottempera l'obbligo vaccinale previsto adesso io non mi ricordo quale però è un decreto una legge del 2017 che ha regolamentato eh l'obbligo vaccinale per per i minori soprattutto in realtà il consenso le le aziende sanitarie lo acquisiscono perché c'è la consapevolezza dei rischi e quindi non tanto per eh io ti rendo edotto formalmente delle conseguenze eh conseguenti poi sappiamo benissimo che rispetto a queste conseguenze il rischio mh come dire le conseguenze sono difficilmente prevedibili soprattutto in termini resarcitori e lo saranno ancor meno per gli obblighi vaccinali visto i contratti che sono stati fatti in UE ma questo come dire ci porta oltre però il consenso mh comunque eh viene chiesto e deve essere ottenuto proprio per eh come dire l'informativa sulle conseguenze legate a patologie connesse e conseguenti al vaccino sì grazie ma ora io credo che sia giustissimo perché in effetti il consenso informato per quanto può essere come dire un po' paradossale è proprio l'informazione di quello a cui tu ti stai sottoponendo quindi di solito appunto con i bambini con i minori comunque viene presentata un'informativa su tutto quello che eh ti viene proposto in quella sede vaccinale quindi credo che si manterrà però appunto questo penso anch'io ma proprio perché resta un punto fermo tu eh comunque se un cittadino adempia questo obbligo per però devi sapere che ci potrebbero essere eh delle conseguenze poi dopo eh come dire eh c'è un'ampia letteratura sulla utilità o meno di queste dichiarazioni ma eh le aziende sanitarie sicuramente la chiedono questa è una domanda eh per l'avvocato carta che credo potrebbe in qualche modo interessare più di un iscritto cioè ehm il collega chiede se un professionista lavora in ambito non sanitario per esempio docente in una scuola anche se non assorbe l'obbligo vaccinale potrebbe continuare a esercitare questo tipo di attività? Beh su questo mi viene eh cioè se guardiamo l'articolo 4 fa riferimento alle prestazioni degli operatori sanitari quindi se io sono un psicologo e insegno in una scuola eh il mio status è quello di insegnante di docente non sono eh non svolgo una prestazione sanitaria svolgono attività didattica che fuori da questo obbligo esatto diverso è il caso invece se il collega fa lo psicologo scolastico e allora li è tenuto è uno psicologo e tutti gli effetti se svolge un altro il barista è per fare quello che viene più opportuno e c'è una domanda però simile e anche questa forse interessante eh ormai di qualche insomma un po' di minuti fa in cui un collega chiedeva se ehm non avendo assolto l'obbligo vaccinale potesse frequentare della formazione però della formazione professionale in questo caso per esempio se fai i corsi FAD lo può fare ecco non in presenza no lui chiedeva in presenza e quella non è una prestazione professionale a rigor di logica però se la ragione eh sottesa è quella di evitare il rischio di contagi eh se fai in presenza a parte che sono pochissimi come sappiamo gli eventi in presenza formativi per tutte le categorie professionali sembrerebbe cioè io ritengo che eh comunque l'obbligo professionale connesso allo svolgimento della professione e credo che potrebbe essere ricompreso nella grande famiglia dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale mi permetto di aggiungere che l'unica attività formativa su cui potrebbe avere dei problemi sono le attività di tirocinio dove il tirocinio prevede la presenza eh per vedere una persona lì potrebbe avere anche se formazione certo Laura però lì è quasi cioè il discrimine eh tra l'attività professionale e la formazione è molto labile perché in realtà eh in realtà io faccio il tirocinio faccio i colloqui e quindi il setting è quello di una di un luogo dove il rischio di contagio è elevato poi dopo insomma non possiamo andare per compartimenti stagni quella è un'attività che rientra che ha una sua oggettiva eh che è un oggettivo margine di rischio poi dopo difficile che non venga ricompreso ecco ci tengo a fare altre due puntualizzazioni una riguarda il tema del se ho ricevuto solo una dose non ancora la seconda sono considerato come dire eh che sto ottemperando diciamo al decreto oppure no la risposta che ci siamo dati però Maura se 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 vuoi puntualizzare poi fai meglio tu c'è è quella che va bene anche una prima somministrazione in attesa della seconda dose quindi che uno sta come dire rispondendo diciamo all'obbligo che viene richiesto corretto? Assolutamente perché l'obbligo vaccinale è il sottoporsi al vaccino se il vaccino che come sappiamo Pfizer è solo moderna mi pare che ha una sola dose poi Johnson e Johnson quindi quella è una modalità di vaccinazione ma è una vaccinazione quindi non rientro nella disponibilità del professionista chiedere la 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 somministrazione in unica dose no questo direi che abbastanza condivido pienamente questa questa soluzione se ho ricevuto la prima dose io sono vaccinato poi il completamento della vaccinazione sarà nei tempi compatibili eccetera eccetera però io sono vaccinato a quel punto sono in regola poi leggo una domanda che ammetto di non aver capito fino in fondo e provo a dare una risposta dice qualora arrivasse la sospensione ma uno si affretta ad adeguarsi allora viene ritirata ma la mia contro domanda è non dovreste arrivare in questa condizione perché in questa finestra vi chiameranno e dato che voi non avete aderito prima potete aderire adesso e quindi non dovreste ricevere nessuna sospensione cioè se la vostra intenzione è mi son perso le prime finestre ma mi voglio vaccinare avete il tempo di recupero senza entrare nella sospensione ecco questo è un ulteriore chiarimento non so se certo ma poi mi arriva il provvedimento come dire mi avvisano perché la legge prevede che ci sia proprio una una scaletta non è che da un giorno all'altro dispongono la sospensione quindi io ho tutto il tempo anzi ho l'onere eh di farlo di adempiere e di mettermi in regola anche perché altrimenti ci sarebbe che non sono stato vaccinato per un fatto che non dipende dalla mia volontà e quindi verrebbe meno la volontarietà della eh della condizione se non mi son potuto vaccinare perché non sono riuscito a telefonare sono arrivati in ritardo le dosi erano finite e a quel punto non c'è responsabilità del professionista di questo è interessante perché vedo poi alcuni colleghi che fanno delle domande su sul differimento della vaccinazione che dal mio punto di vista non è un differimento sulla base di una volontà soggettiva personale eccetera ma è un differimento sempre motivato clinicamente se è motivato clinicamente mi sembra di capire dal decreto che eh si possa continuare a esercitare in presenza assolutamente sì perché eh è il comma 2 dell'articolo 4 solo in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate la vaccinazione obbligatoria di cui al comma 1 non è tale e può essere omessa o differita quindi vuol dire che io posso non vaccinarmi se ho una situazione clinica una condizione clinica eh che il medico giustifica io non sono più tenuto a vaccinarmi non ho non sono un soggetto obbligato quindi è importante da sottolineare anche perché ho letto almeno un paio di commenti e di domande in cui i colleghi scrivono se il mio medico mi suggerisce di ma il medico non vi deve suggerire il medico deve certificare se voi non dovete farvi vaccinare per una condizione clinica specifica o se dovete differire la vaccinazione sempre per una condizione clinica specifica non vi può suggerire di non farlo e poi non scrivervi niente o se lo fa diciamo che ha per voi non è per nulla utile anzi presumibilmente vi crea dire un conflitto ancora più più forte ecco se posso precisare Davide perché ho visto alcuni quesiti che sono arrivati adesso allora ehm noi abbiamo concluso che se un soggetto non è tenuto all'obbligo vaccinale per particolari condizioni cliniche quindi la vaccinazione può essere omesso di ferita in realtà può continuare a lavorare in presenza tutto sta cioè questo è rimesso alla responsabilità individuale se una persona si trova in particolari condizioni cliniche deve valutare lui anche se sporsi al rischio di contagio anche dal paziente dal tenore della legge sembra di capire che se si trova in una determinata condizione non è soggetto tenuto all'obbligo di vaccinazione punto quindi potrebbe usiamo il condizionale potrebbe continuare a lavorare in presenza non è che deve lavorare in presenza se una persona non può vaccinarsi forse prudente che non lavori in presenza però questa è una mia considerazione personale ma non c'è l'inibizione perché a quel punto non c'è l'obbligo di vaccinazione e soprattutto non la regione non può disporre la sospensione dallo svolucimento dell'attività e quindi abbiamo fatto un po una sintoma crasi come dire ma la sospensione in quel caso non può essere disposta perché se io quando io per ragioni cliniche accertate e documentate non sono soggetto all'obbligo vaccinale quindi non posso essere sospeso il che vuol dire che posso anche lavorare in presenza oppure forse è più prudente che io non lavoro in presenza perché ho un rischio maggiore non lo so ecco beh probabilmente poi questi aspetti come dicevamo all'inizio verranno anche chiariti quando passeremo dal decreto in parlamento e magari lì si deciderà una linea più restrittiva oppure una linea più di apertura lo vedremo anche faremo eventualmente daremo anche noi aggiornamenti capiamo che dal punto di vista strettamente del senso sembra non lo so perdere un po di senso no al fatto che una persona non vaccinata possa comunque esercitare in presenza perché non può vaccinarsi o perché deve differire la vaccinazione sembra comunque contrario diciamo all'interesse di salute pubblica che poi è il motore che ha dato origine a questo decreto però qui però ripeto che questo non è il mio campo quindi mi può dire mi dico una cosa ma aspetto che l'avvocato carta ecco eventualmente correga il tiro qui sembra che quello che rileva sia l'inosservanza dell'obbligo quindi comunque i casi nei quali non esiste condizione clinica che giustifichi di non di non di non prendi non farsi vaccinare e e quindi venga certificato appunto che non si non ci si vuole vaccinare poi dal punto di vista del contagio magari l'effetto ecco su una persona che ha differito la vaccinazione evidentemente lo stesso perché potrebbe essere portatore del virus però dal punto di vista del decreto mi sembra che si faccia questa differenza quindi un fermo che così cioè la lati è l'azienda sanitaria locale non può disporre la sospensione se c'è una motivazione la sospensione dell'attività se c'è una motivazione e preclude la faccio la vaccinazione se c'è una ragione clinica quindi insomma è giustificato e io non posso essere sospeso poi dopo altra questione come le modalità di svolgimento dell'attività però io posso continuare cioè non sono sospeso non posso essere sospeso poi tutte le altre considerazioni come dire sono quelle che avete inteso perfettamente ho visto alcune usa laura non so se volevi andare verso la chiusura visto che siamo andati anche oltre forse non vedevo altre domande ma se tu le hai prego davide io non vedevo diverse domande molto specifiche rispetto a delle condizioni di lavoro che non sono minimamente previste dal decreto per esempio io non sono vaccinato non ho diciamo rispettato ad impiuto l'obbligo vaccinale però vedo in presenza un paziente vaccinato che mi fa una liberatoria rispetto al fatto che io non sono vaccinato c'è tutto questo tipo di casistica non è minimamente contemplato da questo decreto quindi è molto netto o hai una giustificazione clinica per cui non puoi vaccinarti o ti devi vaccinare altrimenti lavori solo online lavori solo da remoto quindi non ci sono tutte queste sottigliezze possibilità interpretative scampare una scelta davide un obbligo quindi taglia fuori tutte queste possibilità che sarebbero previste in una condizione di non obbligatorietà quindi ecco non cercate diciamo soluzioni complicate perché al momento non sembrano esserci io credo che se ci sono ulteriori dubbi io l'ho visto è nella chat altre domande che non sono un po già come dire state riprese da ognuno di noi in diversi interventi direi che possiamo avviarci verso la conclusione e dici davide tu che hai più il controllo più attento alla città ne sono tantissime alcune sono anche ripetizioni di cose che abbiamo già detto e quindi ecco eventualmente si potrà rivedere la registrazione certamente poteri della registrazione possiamo anche immaginare che se poi come dire possiamo anche fare una seconda edizione di questo tipo di incontro magari più avanti quando si chiariscono magari la posizione di regione quando si chiarisce meglio diciamo il percorso del decreto no potremmo organizzare un altro in modo da aiutarci diciamo a stare diciamo in questo processo di trasformazione del decreto in parlamento io devo dire che ringrazio tantissimo ma ora carta e ovviamente anche davide baventore per questa serata ringrazio tutti i colleghi e le colleghe che sono rimasti iscritti e rimasti iscritti scusate sono stanche che sono rimasti collegati rinnovo veramente un auspicio che la nostra comunità prenda questo questo obbligatorietà come o con un senso di dovere ma anche con una volontà di partecipazione civile a questo grande momento di pandemia e spero diciamo che riusciamo anche a viverla da un punto di vista insomma non sono come un obbligo ma come una possibilità una possibilità di tutelarci di tutelare i nostri pazienti e si di sentirci anche parte di un riconoscimento che in questo anno di pandemia per la nostra comunità diventa sempre più evidente come categoria professionale quindi io lo voglio leggere diciamo in positivo prego davide scusami perché proprio quello che stavi dicendo mi ha fatto pensare a una riflessione molto semplice il motivo per il quale noi abbiamo potuto tenere aperti gli studi è lo stesso motivo per il quale siamo inseriti nell'obbligo vaccinale cioè il fatto che siamo riconosciuti come professione sanitaria e quindi al nostro lavoro viene riconosciuta una valenza di importanza pubblica particolare rispetto alle altre professioni è il motivo per cui abbiamo potuto continuare a esercitare in presenza pur con tutte le cautele che l'ordine ha sempre cercato diciamo di promuovere di sottolineare però poi è anche il motivo per il quale ci viene richiesto come operatori sanitari di vaccinarci quindi se dire questo può contribuire a stimolare i colleghi c'è una riflessione ecco sul fatto che qui non si tratta di una penalizzazione ma mi sembra anzi del riconoscimento di un ruolo chiave che i psicologi e non solo gli psicologi sono tutti quelli che sono esercenti professioni sanitarie hanno a livello sociale ecco io credo che sia una cosa comunque da tenere in considerazione bene anche io ringrazio scusa laura anch'io grazie i 300 e passa che ci hanno ascoltato e con la prospettiva di cercare di dare delle risposte magari più puntuali rispetto a quelle in qualche modo come dire più disarticolate che almeno per quanto mi riguarda ho dato questa sera e nella condivido pienamente le valutazioni che avete espresso sull'importanza della degli psicologi oggi professionisti sanitari a tutti gli effetti e devo sottolineare che il covide è stata anche un'occasione straordinaria dal punto di vista storico proprio per valorizzare la vostra figura professionale rispetto ai drammi ai problemi originati da questa malattia e quindi come una importante occasione di lavoro quindi come dire tutti pronti perché voi lavorerete molto di più in seguito o per questa epidemia e quindi questo vi responsabilizza molto e forse questa è una delle ragioni per cui il legislatore è andato anche molto come dire in questa inclusione di tutte le figure sanitarie perché non l'ha previsto soltanto per i medici e per per gli infermieri ma per tutte le professioni sanitarie sicuramente un pensiero speciale è stato esteso agli psicologi perché oggi sono diventati protagonisti siete diventati protagonisti a pieno titolo di un'emergenza dell'emergenza che sappiamo grazie per averci ascoltato grazie maura grazie davide e speriamo di riaggiornarci presto e di come dicevano benissimo davide maura di continuare a lavorare per un maggior riconoscimento anche come dire eh dal punto di vista della nostra professione da tanti punti di vista anche e soprattutto in quello dell'occupabilità che sarà sempre l'argomento su cui noi come OPL lavoreremo e ci impegneremo nel prossimi anni della nostra stiamo facendo io vorrei ecco stavamo chiudendo vorrei salutare tutti ma non non perdo l'occasione di dire che non che noi non parliamo solo di obbligo vaccinale ma continuiamo nell'interlocuzione istituzionale a chiedere che eh regione riconosca la eh necessità di interventi sulla salute mentale quindi di evidentemente finanziare interventi psicologici scusate per la chiosa come dire più politica ma questo è re ipsa come dicono gli avvocati no proprio a causa e per via del covid oggi ce n'è molto bisogno e quindi lo riconoscono tutti in ogni sede di vello e ambiente quindi speriamo anche anche noi perfetto va bene grazie a tutti i colleghi e ci riaggiorniamo a presto buonanotte buonanotte a tutti grazie grazie